ragazzi ben trovati ho avuto un po' di impegni lavorativi non sono stato molto presente negli ultimi due tre giorni ma mi raccomando ragazzi iscrizione gratis al canale e campanellina se vi fa piacere altrimenti va bene lo stesso allora vedi quando io ho sentito mentre guidavo in questi giorni ho sentito radio sportiva ascolto spesso mentre guido anche video di altri youtuber interisti non guardo ascolto e basta perché alla guida bisogna stare attenti e soprattutto non bevete prima di mettervi alla guida ma a parte quello si va sento dire si va in Arabia si fa giocare le riserve cerchiamo di tornare a casa subito no 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 non funziona così ragazzi ma non funziona così perché l'inter l'inter è una squadra seria capito capito come l'inter è una squadra seria che deve giocare sempre ed esclusivamente per vincere differente da dire che vincere è l'unica cosa che conta eh stai attento ma l'inter deve giocare sempre per vincere almeno ci deve provare anche perché a noi otto milioni fanno comodo per il mercato ragazzi è inutile che ci si gira tanto intorno parliamoci sinceramente e poi un'altra cosa che andrebbe detta a chi ha giocato sempre a biglie sulla spiaggia quando te giochi in maniera blanda quando non ti impegni al massimo cioè rischi anche a livello fisico rischi anche gli infortuni quindi quando giochi devi giocare al massimo devi giocare per vincere contro la Lazio che è una squadra che ha un allenatore abbastanza bravo a livello tattico ma che ha depotenziato molti giocatori vedi Immobile vedi Luis Alberto vedi Lazzari come dissi eh qualche giorno fa è comunque una partita da rispettare cioè non è che tu la puoi prendere il capitolo sì sotto gamba siamo lì siamo andati in Arabia Saudita e bisogna vincerla questa coppa appunto perché è questo è questa la mentalità che deve avere una grandissima squadra ci sono delle opzioni in testa all'allenatore ma già da lì vedi eh qualche ora fa davano la formazione titolare quindi quello è un messaggio che lancia l'allenatore rispetto magari alla partita di Champions con gli spagnoli dove fu inserita qualche riserva qui giocano tutti i titolari l'unico dubbio è Frattesi Barella io farei giocare Frattesi in questa partita per vari motivi che non vi sto a spiegare ma che sapete benissimo Pavar Bissek Bissek ha fatto benissimo contro la Lazio a Bissek lo devi far giocare con Darmian che gli copre le spalle altrimenti Bissek in fase difensiva diventa pericoloso e questo te l'ho detto mille volte quindi ragazzi urla entri in campo fai la tua partita proponi il tuo gioco e cerchi di vincere quella dopo lo stesso con il Napoli qualora qualora l'inter passasse entri in campo e cerchi di vincere è questa la mentalità giusta di una grande squadra e di una grande società come l'inter non esiste metto sette riserve anche perché l'inter non può permettersi di mettere cinque e sei riserve perché la scala cioè se te tu mi metti quattro cinque riserve la squadra la cambia la così a così perché c'è troppo dislivello tra quelli che stanno a sedere tra i titolari ma di cosa stai ragionando giochi contro la Lazio devi vincere gemellaggio non gemellaggio non vuol dire nulla entri in campo e vinci punto e stai sul pezzo perché se no rischi anche di farti male Bissek Darmian io stasera lo farli farei giocare tranquillamente perché contro la Lazio hanno fatto benissimo il campionato quindi eh Pavard magari lo farei un po' riposare perché sarà fondamentale nella seconda parte della stagione Benjamin l'interista come lo chiamano alcuno e vorrei rivedere Bissek stasera per esempio è brutto vedere quegli stadi dove c'è pochissima gente siamo d'accordo ma a te a questi livelli le motivazioni le devi trovare lo stesso un appunto sulla trentino madrid io ho visto tutte e due le partite quella della supercoppa dove hanno perso cinque a tre seguimi seguimi e stai calmo in supercoppa l'atletico perde cinque a tre ma all'ottantaseiesimo vinceva tre a due hanno preso due gol non si sa nemmeno come io li chiamo infortuni hanno preso due gol per infortuni ma il real aveva spaccato l'atletico aveva spaccato nel mezzo il real in coppa del re gli dà tre pere e li manda a casa occhio all'atletico madrid rispetto di tutti e paura di nessuno ragazzi siamo d'accordo però vedere chitteristi contenti perché c'era capitato l'atletico madrid non tutti ovviamente parlo di una parte di interisti io io li per lì non me lo spiegavo allora riguardatevi le ultime due partite con il real in supercoppa in spagna e in coppa del re e guardate mi ha giocato l'atletico madrid non è l'atletico madrid che parcheggia i pullman attenzione questo questa è una squadra che gioca in maniera diversa rispetto a due tre anni fa è molto più propositiva provo a fare calcio è vero che hanno preso molti gol e le ultime due partite hanno preso circa otto gol ma è stato un caso una squadra sul pezzo è una squadra quadrata occhio rispetto non ti dico paura io ti sto dicendo rispetto non va sottovalutata come non va sottovalutata la lazio stasera perché ormai siamo andati lì si si gioca una partita in meno si ritorna eh con un teatrino già composto e quelli sicuramente saranno davanti quindi già che siamo lì vinciamo prendiamo un titolo prendiamo i soldi e scappiamo ciao inter a guardare i soldi di vendere a guardare i soldi vuod